Proseguono i controlli sul territorio ebolitano. Giovedì sera incontrata la storta Papa Leone in località Santa Cecilia, il sindaco Massimo Cariello con il delegato alla sicurezza Giuseppe Labrocca, insieme agli agenti di polizia municipale Damiano Iula e Luciana Aragona e dei carabinieri di Santa Cecilia su sollecitazione del comitato di quartiere la storta Papa Leone, sono state riscontrate diverse irregolarità. Varie le abitazioni, capannoni e ruderi di fortuna che sono stati passati al setaccio. In particolare è emerso che vari alloggi risultavano occupati senza regolare contratto di fitto. Rinvenuta anche una moto Kimco con denuncia di furto presso i carabinieri di Salerno il 18 maggio 2017. Altro blitz a Campolongo dove sono state allontanate quattro prostitute e sanzionati con ammende da 500 euro ciascuna quattro clienti. Altri blitz sono già programmati su tutto il territorio ebolitano. Altri blitz a Campolongo dove sono stati passati al setaccio.